La collocazione dell'Abruzzo in zona arancione era arbitraria e fuori legge o invece il conteggio dei giorni alla maniera del presidente Marsilio era più che sufficiente per cambiare colore e avrebbe dovuto essere condiviso dal governo? Se la giustizia amministrativa ha già risposto alla domanda accogliendo il ricorso del governo e ricolorando l'Abruzzo di un bel rosso acceso e molto temporaneo, la politica continua a discuterne sia da una parte che dall'altra. Per Guerino Testa, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, lo stesso partito del presidente Marsilio, più che di un braccio di ferro si tratta di una ripicca politica che mostra in maniera indecente e non tollerabile la mancanza di rispetto nei confronti degli abruzzesi. Io ritengo che quando si hanno delle posizioni apicali avere il buon senso e il rispetto dei cittadini sia fondamentale. Io ritengo che questa scelta fatta dal governo di impugnare l'ordinanza del presidente Marsilio sia oggetto di una ripicca che va contro i cittadini abruzzesi. In un momento di grandi difficoltà economica e finanziaria e vedere una parte del centro-sinistra esultare per quello che sta accadendo penso che non faccia bene a nessuno. Il presidente Marsilio, sentendo un po' l'humus del gruppo di lavoro sanitario, sentendo un po' cosa pensassero i quattro prefetti, aveva deciso, con grande senso di responsabilità, di dare la possibilità al mondo del commercio di poter riaprire e poter in qualche maniera riprendere quell'ossigeno finanziario fondamentale. Il governo questa scelta non l'ha digerita, ha fatto l'impugnativa, è successo quello che tutto sappiamo. Certo, vedere nello stesso giorno la sentenza del Tar Abruzzo che ci rimette in zona rossa per un giorno e dopo poche ore il ministro Speranza che rimette l'Abruzzo da domani in zona arancione crea sconforto, crea confusione, crea tantissimo malessere. Il presidente Marsilio è un presidente eletto in maniera democratica dalla maggioranza importante del popolo abruzzese. Ogni giorno ci mette la faccia su tutti i tavoli abruzzesi e romani per il bene dell'Abruzzo, come giusto che sia. Grazie a tutti.